Poracci, bentornati o benvenuti sul TgPoroCastLive, l'unico podcast di internet.poro che si fa dal vivo e in cui si parla di videogiochi, una cosa proprio complicatissima e in realtà poi è sempre la stessa cosa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, dobbiamo recuperare tantissime notizie che abbiamo lasciato in sospeso nel corso della settimana, questo perché non ho avuto tempo di parlarne e quindi non c'è veramente tempo da perdere. Mi raccomando, voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto seguitemi anche su Twitch e poi datemi gli sordi. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Allora, inizierei, inizierei da questa notizia che si ricollega in parte a quello di cui non riusciremo a parlare, ovvero della crisi di Square Enix, perché in realtà anche Take-Two, ricordiamo il publisher che è dietro a forse il titolo più redirizio della storia del mondo e comunque di una delle serie più famose e giocate al momento, ovvero GTA, Take-Two, nonostante tutto, nonostante i miliardi, i soldi veri, a Take-Two gliel'avete dato i soldi, sta ridimensionando i propri studi, a pagarne le conseguenze, sono stati per ora due studi principalmente, di uno sono tristissimo, perché a quanto pare hanno chiuso sia Intercept Games, che sono gli autori di Kerbal Space Program 2, titolo che non ho mai bazzicato, ma so che, insomma, ha raccolto una folta schiera, una nutrita schiera di appassionati di simulazione spaziale, non so bene cosa significhi, ma soprattutto chiude Roll7, Roll7 sono gli autori di Olly Olly, Olly Olly 1, 2 e World, e anche Rollerdrome, titolo con cui vi sto spaccando la minchia da un anno e mezzo, penso, forse addirittura da due anni, che era quello che viene, che possiamo definire proprio il Tony Hawk incontra Max Payne, quindi sostanzialmente le due migliori serie di sempre che si fondono in un unico prodotto in stile self-shading, bellissimo, molto molto figo, era poco più di uno studio indie che è stato acquisito da Take2Me, mi sembra anche abbastanza recentemente. Ciao a tutti, e questo poi, secondo me, è un bel discorso da affrontare, o comunque bisogna sempre guardare con consapevolezza che queste grandi acquisizioni, questi grandi inglobamenti da parte di publisher giganteschi che comprano di tutto, non sono necessariamente una cosa positiva, perché sì, magari poi i piccoli studi hanno a disposizione budget e risorse molto più grandi rispetto a quello che si potrebbero permettere, se rimangono, se rimanessero indipendenti, però allo stesso tempo, se i capoccia, non so, sbagliano qualcosa e improvvisamente si trovano buchi di miliardi da tappare, gli studi chiudono senza un reale motivo, e quindi sono sempre migliori ad andarsene per primi, quindi questa cosa è molto triste, e a quanto ho capito garantiranno il supporto a Kerbal Space Program 2, perché comunque è un titolo che ha bisogno di continuo feedback da parte dell'utenza, di miglioramenti patch eccetera eccetera, e il futuro di Roll7, non lo so, tra l'altro era anche un po' un finale aperto quello di Roller Drone, tra l'altro un titolo che aveva delle grandi potenzialità, peccato, se potete recuperatelo, ve lo tirano dietro un po' ovunque, sta anche molto spesso nei servizi di abbonamento, quindi giocatelo e maledetta take two, possa tu essere maledetta per sempre. Notizia un po' più entusiasmante invece, Resident Evil 9 potrebbe essere pubblicato in gennaio, e chi è che ce lo dice? Ce lo dice Dusk Golem, su Twitter, mi rifiuto di chiamarlo X, un leaker che ha uno storico molto molto interessante, è uno di quelli insomma che quando si tratta di survival horror ci prende più o meno sempre, è uno di quelli che ha anticipato il rebuttone di tutta la serie di Silent Hill, anche per Resident Evil se non sbaglio in passato ci ha preso alla grande, e niente, a quanto pare Resident Evil 9 era un progetto di cui si vociferava un possibile ritardo nello sviluppo e c'erano stati i rallentamenti, ma in realtà a quanto pare questo allarme non dichiarato sarebbe rientrato, il progetto sarebbe ancora diciamo in tempo, starebbe seguendo insomma l'iter prestabilito dalla produzione, e a quanto pare, a me sembra tipo fra pochissimo, però potrebbe uscire a gennaio 2025, quindi fra meno di un anno, ed effettivamente però pensandoci, Resident Evil 4 Remake è uscito a gennaio-febbraio dell'anno scorso, forse qualcosina più tardi, forse marzo, comunque è già passato un anno, passerebbero quindi due anni dall'ultimo Resident Evil grande mainline possiamo dire, e l'8 soprattutto a questo punto è uscito nel 2020-2021, quindi ci starebbe come tempistiche, all'inizio ero rimasto un po' sorpreso, però effettivamente non è così tardi, sarà interessante vedere insomma come sarà questo Resident Evil 9 completamente next gen, e comunque Dusk Golem ci rassicura, dicendo il possibile ritardo di cui avevo sentito dei mormorii, può essere, diciamo lo possiamo accantonare. Resident Evil 9 sarà svelato molto presto e pubblicato l'anno prossimo, se quello che ho sentito precedentemente è vero, dovrebbe essere svelato a gennaio, questo significa che è stato sviluppato per ben sette anni, beh, un tempo di sviluppo non indifferente, tra l'altro a questo punto dovrebbe essere svelato presto, la butto lì, o opening o chiusura della Summer Game Fest, secondo voi? Poi comunque aggiunge Dusk Golem che Resident Evil 9 ha iniziato sviluppo nel 2018 come un potenziale ottavo capitolo nella serie principale, perché a quel periodo storico Resident Evil Village, che poi è diventato l'otto, era visto come un progetto spin-off, prima che diventasse alla fine l'ottavo capitolo della serie principale. Questo titolo, non formalmente riferito come Resident Evil 9, a quanto pare ha avuto il più grande budget e il tempo di sviluppo più lungo di un qualsiasi Resident Evil, gioco di Resident Evil fino ad ora, quindi insomma sembra essere un progetto gargantuesco. Beccate questo aggettivo inutile? Ah, perché dicono, vedete, potrebbe essere un open world, no, speriamo che no, dai, Resident Evil Open World no, è anche vero che è una serie che nel corso degli anni si è prestata a degli stravolgimenti radicali, però open world no, no, vi prego, basta open world. Dragon's Dogma 2 ha esteso le funzionalità del re-engine affinché potesse gestire gli open world benissimo, tra l'altro. E gli altri due giochi che stanno appunto costruendo il motore grafico su questa tecnologia sono Monster Hunter Wild e Resident Evil 9. Boh, non lo so, a me l'open world di un Resident Evil non convince più di tanto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Oh, questa mi ha fatto troppo ridere, questa è bellissima, ragazzi, questa è proprio bellissima. Allora, Sony sta togliendo Horizon Zero Dawn dal catalogo del PlayStation Plus. E lo sapete perché? Che è una cosa strana, no? Di solito i giochi all'interno dei cataloghi, dei servizi in abbonamento entrano e escono dopo un tot, perché ci sono gli accordi con i publisher per tenere i titoli un determinato periodo. Quindi sono delle librerie che, diciamo, si assestano sempre sul numero totale di titoli, che poi escono fuori e vengono rimpiazzati. Insomma, c'è un ricambio ciclico. Però, almeno per il Game Pass, a meno che non ci siano problemi di licenze, i titoli first party rimangono all'infinito, anche perché non è che Microsoft sta pagando qualcuno per tenere sul pass. Gears of War e via dicendo. Già diverso, un gioco come Forza Motorsport, che ci sono gli accordi di licenza con le cause automobilistiche, eccetera, eccetera, a un certo punto spariscono. Ma perché Sony dovrebbe togliere dal catalogo PlayStation Plus Horizon Zero Dawn? Questo perché, a quanto pare, la compagnia sta lavorando a una remaster per PS5 del gioco. Questa cosa mi fa troppo ridere, perché penso sono riusciti, se veramente lo fanno, non è detto, ma nel caso lo facessero riuscirebbero a tirare fuori una remaster ancora più inutile di qualsiasi cosa di The Last of Us parte 1 o 2, se vista su PlayStation 5. Cioè, questo sarebbe proprio l'apice dell'inutilità fatta a videogioco. Mi dispiace perché poi, alla fine, come open world, è pure interessante. Ma stiamo parlando di un gioco del 2017, perfettamente retrocompatibile, che ha visto un seguito, tra l'altro, molto conservativo. Magari tra The Last of Us parte 1 e parte 2 c'era effettivamente un bel cambio nella struttura di gameplay. I giochi erano profondamente diversi, ma nel gameplay stesso, nel level design, nel world design, c'erano tantissime differenze. Quindi, a un certo punto, se mi vuoi fare il remake del primo, aggiungendo parte di quello che sono messo nel secondo, ma poi non hanno usato veramente troppo, ci può pure stare. Cioè, qualcosa cambia. Ma tra Horizon Zero Dawn e Forbidden West, cazzo cambia. Più o meno è sempre la stessa cosa. E, tra l'altro, ricordiamo pure tutto il dietrofront catastrofico che c'è stato tra le versioni next-gen o meno di Forbidden West, che all'inizio doveva essere retrocompatibile, poi hanno detto no, poi hanno messo l'upgrade patch, che però la dovevi pagare, poi Jim Ryan ha detto no, no, ma mica si paga, è gratis. Quindi, alla fine, potevi comprare Forbidden West per PlayStation 4 a 10 euro di meno, però c'avevi l'upgrade gratuito per giocarlo in versione PlayStation 5. Vabbè, proprio una foglia totale. Beh, a quanto pare, ora stanno facendo sparire la versione gratuita del gioco per gli abbonati al PlayStation Plus per dare spazio la remaster per PlayStation 5 di Zero Dawn. Chissà poi se la venderanno a prezzo pieno se chi già ha il gioco dovrà pagare tipo il solito upgrade da 10 euro. Chissà, chissà. Comunque, in questo Sony, in questa generazione, si è mossa veramente malissimo tra update, cross-gen, we believe in generations, per poi dire no, ma che è tutto retrocompatibile, state calmi. È tutto retrocompatibile, però no, questo forse no. Boh, non lo so, un disastro comunicativo. Per sua fortuna, c'è il fatto che dietro al brand c'è un nome fortissimo. Anzi, dietro al nome c'è un brand fortissimo, quindi chi li schioda? Nessuno. Andiamo avanti. Perché la notizia è questa. Eldiverse 2 presto richiederà a tutti i giocatori Steam di fare il login con un PlayStation Network Account anche su PC. In realtà questa feature c'era già all'inizio, però siccome, non so se vi ricordate, il gioco ha avuto un esordio imprevedibile, hanno intassato tutti i server, ci sono stati 10.000 problemi tecnici, eccetera, eccetera, gli sviluppatori hanno detto vabbè, togliamo un attimo questo requisito perché già ci abbiamo fatica a tenere in piedi i server, ci aggiungiamo pure a questa cosa, diventa proprio un casino, diventa ingestibile, lo reintrodurremo in un secondo momento. Questo secondo momento è arrivato e quindi adesso anche i giocatori PC dovranno fare il login sul PlayStation Network se vogliono giocare al Diverse 2. Non mi sembra niente scandaloso ed è qui che vi sbagliate, pur qua. Allora, ouch! Gli sviluppatori del Diverse 2 si scusano nel momento in cui ricevano oltre 100.000 recensioni negative su Steam. I fan hanno risposto molto negativamente al login obbligatorio sul PlayStation Network ed è stato bello, ci apprendiamo, hanno iniziato a fare review bombing sul titolo che fino a tre secondi fa era quello più apprezzato di sempre, eccetera, eccetera, perché la gente gli gira il culo di dover fare il login sul PlayStation Network da PC, tanto che lo sviluppatore si è scusato ma non è che ha detto lo togliamo sta cosa. Dice, ouch! Direttamente nei voti delle recensioni. Ci avete colpito lì direttamente. Scusate tutti quanti per come sta cosa è uscita fuori, spero che riusciremo a metterci una pezza sopra e che riusciremo a guadagnare nuovamente la vostra fiducia fornendo un'esperienza di gioco ancora migliore. Voglio solo fare grandi giochi, questa è stata la risposta e l'unica cosa che mi sembra di capire che potrebbe essere un problema questo login obbligatorio nel PlayStation Network è dettato dal fatto che non in tutte le nazioni e le regioni del mondo il servizio è disponibile, quindi potenzialmente potrebbe tagliare fuori dei giocatori che hanno accesso a Steam ma magari non hanno accesso al PlayStation Network. Questo potrebbe essere effettivamente un problema. Per il resto non so, sì è uno step in più, però non lo so, a me non infastidirebbe più di tanto, non so a voi. E comunque Sony ha detto che questa cosa del login obbligatorio è stata fatta per proteggere i giocatori. Il collegamento degli account ricopre un ruolo critico nel proteggere i nostri giocatori e mettere in primo piano i valori della sicurezza forniti da PlayStation e dai PlayStation Studios. Questo è il nostro modo principale per proteggere i giocatori da risentimento e l'abuso abilitando il ban dei giocatori che si comportano in questi modi. Non è che è la soluzione al bullismo nel PlayStation Network, però vabbè, potevano anche semplicemente dire che vogliamo fottere tutti i dati di utilizzo. Sarebbe stato più credibile. Altra notizia, potenzialmente deprimente, ma proprio tanto, tanto, diciamo che questa prima parte è molto, molto triste ragazzi. Sono notizie di merda. Allora, hanno annunciato un nuovo Batman Arkham, ma non è sviluppato Rocksteady e soprattutto è un titolo VR. Il titolo è sviluppato da Camouflage e Oculus Studios e tra l'altro, se non sbaglio, sarà un'esclusiva per Meta Quest 3. Allora, non si è ancora capito perché poi il reveal vero e proprio ci sarà durante la serata della Summer Game Fest il 7 giugno. Appuntamento... Oddio, ho cliccato su Jeff Keighley. Appuntamento dove, vi ricordo, io purtroppo non potrò esserci in live, forse solo in chiusura perché sarò al matrimonio del mio migliore amico. non si è ancora capito se sarà una mainline entry, cioè un capitolo principale o seppure sarà uno spin-off. Speriamo sia uno spin-off, però dopo... dopo... dopo la montagna di merda in cui si è... in cui è stata ficcata Rocksteady da Warner Bros. Games direi che forse possiamo considerare la serie morta, almeno come la conoscevamo, quindi non aspettiamoci più niente. Poi, notizia velocissima, qui gollo tantissimo ma anche tantissima paura perché sappiamo che il titolo multiplayer di Remedy, gli autori di Control, è entrato in full production che è l'ultimo stato di lavorazione prima della release. Quindi, il titolo conosciuto inizialmente con il nome codename Condor Condorello per citare Pippo Solo è una realtà concreta e i capoccia di Remedy aggiungono basandoci su dei playtest interni molto espansi possiamo già notare che il loop principale di gameplay è intrattenente ti cattura e il gioco porta un angolo tipicamente unico proprio alla Remedy al genere quindi non è il classico FPS multiplayer come ce ne sono altri 100.000 ma c'è quel quid in più che solo le produzioni Remedy ti sanno dare ora che tipo di gioco sarà? Io sinceramente ho un po' paura anche perché diciamo quando poi si è trattato di fare FPS con quel Crossfire X non è che ne sia uscito proprio un capolavoro vabbè insomma a livello tematico un'espansione della lore di Control che come abbiamo visto in realtà poi fa tutto parte del Remedy Extended Universe che coinvolge Max Payne Control Alan Wake eccetera eccetera la cosa che mi preoccupa è che tipo di gioco sarà perché viene detto Condor avrà un prezzo fisso quindi non sarà un free to play a cui poi si aggiungono le microtransazioni sarà una sorta di Helldivers 2 sostanzialmente questi sono titoli premium che hanno un prezzo di ingresso più basso rispetto alla media quindi non è che fanno guadagnare tanto ma sul lungo andare generano tanti introiti tramite aggiornamenti espansioni e potenzialmente microtransazioni non so voi ma leggendo quest'ultimo virgolettato sento una puzza de merda proprio clamorosa oh e questo mi ha fatto troppo ridere ragazzi e poi si può passare alle notizie switch related sbrigiamoci vabbè Sasa dai oggettivamente fa troppo ridere non è che c'è bisogno di aggiungere nient'altro eFootball celebra 750 milioni download con eventi speciali e oggetti ma come cazzo è possibile ma io tra l'altro quando l'ultimo periodo che lavoravo per Every Eye sono stato più volte mandato alle anteprime a Londra di eFootball e c'era un'area abbastanza pesante che aleggiava intorno al progetto soprattutto la seconda anteprima stampa che era un po' l'evento di rilancio del titolo dopo un anno disastroso dal lancio cioè non so bene cosa stanno contando come download perché io non conosco nessuno che ci gioca proprio non lo so però forse effettivamente col fatto che è un titolo free to play alla fine la gente lo scarica se ne dimentica subito o magari qualcuno ci trova effettivamente un gioco valido chissà magari nel corso degli anni si è anche rinnovato parecchio e hanno aggiustato i problemi che avevano con la Real Engine catastrofici il passaggio dal Fox Engine alla Real Engine ha spaccato in due il gioco chissà magari hanno sistemato adesso un gioco che vale la pena giocare 750 milioni di download non so come sia possibile forse perché l'hanno messo anche su mobile comunque ripeto con i titoli free to play è facile bullarsi dei download totali 750 milioni ma quanti sono i giocatori attivi lo cerchiamo al volo facciamo una porrinchiesta vabbè 11.000 giocatori non sono pochissimi ma forse non sono neanche tanti sapete di questi almeno 740 milioni penso non fosse FIFA sì comunque 750 milioni di download e 10.000 giocatori attivi al giorno boh insomma non mi sembrano numeri proprio da far girare la testa le recensioni rimangono ancora estremamente negative ci sono più recensioni negative che positive comunque questo è da è da notare ragazzi al volo anche quest'altra notizia molto importante da discutere la scammata di limited run games una compagnia che secondo me fa molti più scivoloni di quanto poi ci si rende conto che succede annunciano questa riedizione per 3DO del classico del dell'avventura horror di tra l'altro io ho giocato su playstation ragazzi un gioco assurdo e che succede c'è questa collector's edition strafiga il 3DO era una console che andava a cd ricordatevi questa cosa questa edizione strafiga che costava pure più di un'ottantina di dollari molti la comprano per collezionismo e quindi neanche la aprono però a qualcuno gli è venuto schiribizzo e dire ma fammi idea un po' dentro come è messa questo è il paradosso del collezionista ti vende una cosa sealed tanto tu non controllerai mai cosa c'è dentro vabbè comunque salta fuori che i cd in realtà non sono cd stampati a livello commerciale quelli che vengono indicati come prest che dietro c'è tutta una lavorazione molto molto specifica che crea una sorta di patina protettiva tra la superficie del disco e i dati cioè i dati sono messi in questa patina protettiva ma hanno stampato le copie di questa edizione premium su dei cdr cioè in pratica è come se per chi c'era negli anni 90 è come se avessero preso un paccone di cd verbatim cdr e avessero masterizzato i giochi dal pc di casa e poi le hanno vendute così che è una pratica estremamente scorretta anche perché questo pure è interessante i 3do in realtà esistono varie versioni del lettore dischi del 3do e non tutte supportano i cdr è un modo molto casalingo molto casareccio di stampare di stampare di masterizzare i dischi e soprattutto è una modalità che porta i dati a deteriorarsi con estrema facilità quindi non solo è un prodotto cheap ma in più è anche una cosa che state sicuri che fra un paio d'anni non si no un paio d'anni una decina d'anni non si leggeranno più e in più salta fuori che non tutti i modelli 3do sono compatibili con i cdr quindi molti hanno comprato vabbè che voglio vedere quanti si sarebbero messi a giocare a di però vabbè questo è un altro discorso però hanno comprato un gioco che non partirà neanche sulla sulla loro console la cosa triste e inquietante è che limited run games non ha smentito ha semplicemente detto si ci dispiace faremo i refound ma non è colpa nostra è perché stampare i dischi è complicato e abbiamo provato su 5 diversi 3do i dischi stampati in questo modo e funzionavano e quindi abbiamo pensato fosse il modo più più semplice più corretto per fare una cosa del genere vedete fabbricare giochi per hardware che sono vecchi di più di 30 anni presenta una varietà di sfide ci siamo affidati a uno dei più più grandi provider di repliche di dischi in nord america per stampare i nostri dischi fisici e nonostante ricerche fatte sul 3do sull'hardware 3do originale abbiamo poi trovato dei problemi di qualità e affidabilità quando provavamo a stampare i dischi 3do nella maniera tradizionale quindi abbiamo masterizzati a casa questo è proprio il succo del discorso insomma il problema è che poi nella production pipeline cioè nei progetti futuri ci sono anche altri titoli per 3do che in teoria sono già in produzione quindi non si sa se adesso bloccheranno tutto per cercare di metterci una pezza oppure se alla gente gli arriveranno i verbatim masterizzati pure di non mi ricordo che altri giochi c'erano in ah si plumbers don't wear ties che è una sorta di gioco meme dovrebbe essere spedito a questo 2m24 ma insomma comunque limited run games a me proprio ogni giorno mi puzza sempre di più e questo è uno scivolone clamoroso proprio 84 euro ragazzi dollari per un per un verbatim oppure no comunque chiudiamo con un po' di notizie relative a switch 2 allora innanzitutto abbiamo dei rumor riguardanti le specifiche tecniche di switch 2 che vengono da moore slow is dead questo canale che va citato perché è stato quello che ha sostanzialmente diccato le specifiche tecniche di playstation 5 pro ed è lo stesso che ha ricevuto dei takedown cioè nel momento in cui lui ha spoilerato le caratteristiche di playstation 5 pro sony gli ha tirato giù tutti i video confermando implicitamente che quelle informazioni avevano quantomeno un barlume di verità magari poi non sono informazioni definitive ma erano informazioni provenienti direttamente da sony quindi diciamo come fonte è abbastanza autorevole e diciamo si è riaperto un po' alla discussione intorno a quali saranno le potenzialità di switch 2 salta fuori questa cosa che sarà ovviamente un hardware molto simile a switch 1 e quindi avrà un target di potenza molto migliore in modalità dock rispetto alla modalità portatile questo perché in modalità dock raggiungerà una potenza di 4 teraflop diciamo questo boost di potenza lo raggiungerà grazie a un overclocking estensivo mentre in modalità portatile la frequenza di clock sarà abbassata drasticamente a 800 MHz allora qua nel sito dicono crazy low cioè incredibilmente basso però in realtà se poi andate a vedere 800 MHz cerca il doppio della frequenza della switch 1 in modalità handled in modalità portatile però secondo me questi qua sono tutti i numeri che lasciano un po' il tempo che trovano se uno non fa delle comparazioni dirette e ho trovato quest'altro sito che fa insomma contestualizza questi numeri ok così ci possiamo fare un'idea un po' più chiara questo significherebbe che switch 2 sarebbe in grado teoricamente di raggiungere il livello di potenza di serie S e playstation 4 pro ricordiamo playstation 4 pro alla fine aveva un output di 4.2 teraflops ovviamente poi ci dovete mettere questo è il discorso che poi abbiamo sempre affrontato che la potenza bruta ha significato fino a un certo punto conta soprattutto anche l'architettura su cui sono basati questi hardware rispetto alla playstation 4 pro che è un hardware di otto anni fa un device di nuova generazione avrebbe accesso a tutte le tecnologie nvidia come il dlss ray tracing eccetera eccetera quindi ci sarebbero anche un modo molto più moderno e molto più efficiente di sfruttare questo output di potenza quindi abbiamo comunque una conferma diciamo nulla di nuovo se non che potrebbe essere effettivamente potente non come una playstation 5 non come un xbox eccetera eccetera però avremmo tra le mani un hardware competitivo sul mercato in grado tra l'altro di sfruttare tecnologie come ray tracing magari riuscendo a implementare anche meglio di come vengono implementate in modo molto zoppigante su playstation 5 eccetera eccetera perché la tecnologia appunto ha fatto passi da gigante in questo in questo senso quindi questa qua è interessante e poi c'è anche una notizia che ci permette di parlare di endless ocean perché hanno fatto il data mining del del titolo e sono emersi dettagli molto interessanti su quello che è il motore grafico che è alla base su cui è stato costruito il gioco che è il bezel engine motore che è stato utilizzato per entrambi i titoli di warioware sulla switch per tutti e due mario party per tetris 99 e per un po' di titoli di third party però tutti questi utilizzano una versione vecchia almeno più vecchia del bezel engine rispetto a quella vista su endless ocean luminous e questa nuova versione introduce due feature che un po' fanno straniscono perché supporta frequenze di frame molto elevate fino a 240 fps e anche supporta il variable refresh rate che è una feature che sono sicuro non sia supportata da switch anche il refresh e anche scusate gli fps in realtà switch riesce ad avere un output dell'immagine massimo a 60 fps quindi la cosa interessante è che uno potrebbe pensare che nintendo si stia preparando appunto alla next gen già creando dei motori grafici in grado di supportare delle tecnologie che diventeranno non dico degli standard ma quantomeno accessibili sul prossimo motore grafico sicuramente è così però una cosa interessante che fanno notare nei commenti eccolo qua quello di Hotmail Dome è che va fatto notare che solo perché l'engine supporta una tecnologia del genere non significa che questa sarà utilizzata dai giochi attuali semplicemente stanno dando la possibilità all'engine in futuro semmai servirà di avere questa capacità di appunto avere framerate elevati di supportare il VRR e via dicendo però questo di sicuro su switch non lo vedrete e non è detto che il bezel engine poi continui anche in futuro a essere riproposto però io ce lo vedo come un motore su cui sviluppare diciamo titoli non minori però insomma medi magari è facile da programmare magari non sarà così elastico magari non ci si possono fare chissà che figate assurde però il fatto che si stiano proponendo delle nuove versioni per me praticamente la conferma che questo sarà uno dei tool utilizzati per lo sviluppo di titoli al lancio di switch 2 e poi nella nella vita della next gen targata da nintendo a proposito di line up di switch 2 guardate con che fluidità mi ricollego e tutte quante le notizie abbiamo altre due due cosette interessanti innanzitutto midori la leaker diciamolo probabilmente pagata direttamente da sega conferma che tutti i remake che sono attualmente in sviluppo dal publisher ovvero jet set radio golden axe shinobi e via dicendo che c'era in mezzo pure crazy taxi se non sbaglio qualcosa altro arriveranno su switch 2 c'era da aspettarselo anche perché probabilmente non li vedremo su switch ma faranno direttamente il salto generazionale siamo arrivati in un momento dove appunto la nuova console è alle porte probabilmente se ne parla nel 2025 e anche ai publisher visto anche il successo di switch 1 conviene direttamente presentarsi in prima linea nel momento in cui la console verrà lanciata perché ricordiamo che poi è un periodo dove molto spesso anche per scarsità di offerta i titoli che ci sono se la console è di successo vendono tantissimo uno dei giochi più venduti su switch nel primo anno è stato snake pass perché era uno dei pochi titoli decenti all'interno dell'e-shop quindi ci sta che la line up di lancio che i grandi publisher un po' sgomiteranno per essere in prima linea quando la console verrà lanciata se non proprio al lancio magari nel primo anno di commercializzazione quindi questo non può che essere una notizia ottima perché poi storicamente uno dei grandi problemi di nintendo con cui si è dovuto scontrare in diverse generazioni è quello del non avere sempre un supporto di terze parti garantito oppure gli sviluppatori esterni che a un certo punto sentono puzza di bruciato e se danno giustamente a gambe levate quindi per ora sembra esserci la conferma anche di un bel supporto da parte di sega mentre per quanto riguarda questo 2024 un luogo zoppicante per nintendo che sembra un po' essere entrata in ibernazione in attesa che qualcosa si smuova per quanto riguarda un ipotetico annuncio di switch 2 tra l'altro mi sa che la prossima settimana c'è il q&a con gli investors e potrebbe essere un buon momento se non altro per la prima volta riconoscere ufficialmente che nintendo oltre a continuare il supporto a switch 1 ha intenzione di lanciare nel breve periodo switch 2 non un rimedio ufficiale ma quantomeno una presa di coscienza da parte della grande n bene proprio per questo che succede dopo Luigi's Mansion 2 che succede nella seconda parte dell'anno nintendo sappiamo poco o nulla abbiamo visto recentemente c'è stato quel leak del nintendo world championship che sembra una figata tra l'altro ma qui sono apparsi nel sistema di rating australiano sono apparsi due titoli anzi no scusate non è il sistema i rating ma sono stati proprio spottati due nuovi trademark due nuovi marchi registrati che sono relativi Kirby e il pennello arcobaleno mi sembra si chiami così da noi Kirby and the rainbow paintbrush e poi anche per il gioco 3ds full blocks conosciuto come stretch mo ora non ricordo dovrebbe essere il seguito di full blocks non mi ricordo se si chiamava full blocks o stretch mo vabbè comunque è quel puzzle game dove bisognava spostare i blocchi molto carino che però è un esclusiva digitale che quindi non si può più giocare su 3ds cioè non lo potete più comprare la cosa interessante però è che questi qua non sono stati dei rinnovi del copyright perché molto spesso le aziende si tutelano semplicemente rinnovando il copyright in modo di avere ancora i diritti d'autore sulle produzioni ma questo non significa che ci vogliano fare qualcosa sopra più che altro questi due giochi hanno ricevuto dei nuovi copyright che si sono affiancati a quelli vecchi quindi probabilmente potrebbe trattarsi di il primo segnale che nintendo potrebbe spingere su queste due remaster remake di sicuro no anche perché poi con le versioni deluxe di kirby ci ha fatto una carriera intera praticamente io mi inizio a immaginare veramente una seconda metà del 2024 fatta di titoli del genere minori venduti magari a prezzo budget qualche qualche altro remaster qualche altro remake e poi andiamo diciamo la strada verso Metroid Prime 4 è la stregata di buone intenzioni e titoli minori quindi insomma è un buon momento per rifarsi un bel per sfruttire il backlog e questo però c'era tutto per oggi anzi per ieri perché voi siete in ritardo di un giorno e non mi resta che aspettarvi qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie di ieri vi do appuntamento al prossimo video che non sarà in live ma sarà registrato ma che arriverà quando arriverà voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi riguardatevi tutte le live dormite soni tranquilli ma soprattutto nerdate duro io sono il Poroswitch Michele2 ciao live ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa un po' di